buongiorno amici 30 novembre 2018 sono in via beattillo angolo via milo oggi come volontario di retex siamo qui per sistemare una segnaletica verticale che non si sa come non si sa perché è cadente ecco andremo con la pinza a ricreare il dentino in modo che non esca più il perno quindi dentino è stato ripristinato adesso alziamo il cartello lo portiamo in alto sempre più in alto e siamo arrivati ecco ragazzi la segnaletica è ritornata alla sua posizione originale come sempre in spirito retex tanta buona volontà e la segnaletica verticale è tornata nella sua opposizione originale ciao ragazzi alla prossima